Buongiorno a tutte Sporty Ladies, anche oggi siamo qui per fare il nostro ultimo allenamento da casa perché come saprete dalla settimana prossima si rinizia a fare attività normale in palestra con le dovute accortezze chiaramente, quindi per me oggi sarà l'ultima lezione online poi vabbè ci saranno comunque quelle dei miei colleghi ai prossimi giorni però per me sarà l'ultima, quindi oggi ho deciso di fare qualcosa che potrete utilizzare anche solitamente da casa anche solitamente da casa, quando magari non avete tempo di venire al club ecc quindi l'ho chiamato express addominali, sarà una cosa molto veloce da 15 minuti circa che potete fare quando volete ci serviranno solo una bottiglia e una sedia quindi detto ciò procurateveli oggi non faremo la postazione intermedia faremo solo esercizi quindi sedia, bottiglia e iniziamo subito con il riscaldamento musica, intanto che voi procurate sedia e bottiglia accendo la musica, accendo il timer, accendo tutto musica, accendo a tutti musica, accendo a tutti Ok, iniziamo, solito riscaldamento, inspiro, butto fuori, inspiro, butto fuori. Inspiro, butto fuori, inspiro, butto fuori. Ok, secondo esercizio, spalle, piccolo, medio, grande. Piccolo, medio, grande. Ok, mani sui pianti, apro, tocco e torno. Ok, mani sui pianti, apro, tocco e torno. Ok, primo esercizio. Prendo la bottiglia d'acqua, allargo le gambe, braccio su, inclino di lato e torno. Giù e sui pianti, giù e sui pianti, giù e sui pianti. Sempre bene l'omelico di succhiato, così da non sforzare troppo la schiena. Ok, secondo esercizio. sedia. La teniamo qua vicino. Mano destra, ginocchio sinistro, premo. Spingo forte, la mano contro il ginocchio, il ginocchio contro la mano. Il gluteo della gamba sotto è un bello contratto che almeno ci dovete essere l'equilibrio. Volendo potete farlo anche senza la sedia, perché ha un buon equilibrio. Così allenate anche l'equilibrio. Se non ce la fate, sedia. Ok, prossimo esercizio. Ok, prossimo esercizio. Mi muovo giù. Ok, sempre con la siglia. Braccia dietro, schiena bella dritta, radazione. Anche qua un belicco bello risucchiato all'interno. Ricordatevi che il movimento non parte dalle spalle, ma parte proprio dal tronco, ok? Non sono le spalle che ruotano, ma è proprio tutto il tronco. Ok. Ora, sempre sedia. Dall'altro lato. Giungo bene, eh. Mano all'interno, mano all'interno del ginocchio e il ginocchio sulla palma della mano. Passi. 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 Lascia la sedia. Passi. Ma indietro. Su e torno, su e torno. Devo avvicinare bene la spalla all'anca, ok? Ok, prendo la sedia, mi attacco, mi appoggio bene con la sedia, stacco una, stacco l'altra, io è un po' piccolina per farlo, ok? Con la gamba sotto tocco il pavimento. Con la gamba sotto tocco il pavimento, eh? Ok, ripartiamo dal primo, bottiglia, e la testa, un lato. Ok, ripartiamo dal primo, bottiglia, e la testa, un lato. Questa è un po' piccolo, bottiglia, e la testa, un po' piccolo, in un po' piccolo, in un po' piccolo. ok e già non devi estragando a sinistra primo Secondo volta. Non importa, non importa, non importa, ma non ti dice che sei colore. ok, lascio la sedia qua mano dietro ruoto quando ruoto, butto fuori l'aria quando torno, inspiro ok, butto fuori inspiro butto fuori, inspiro se è troppo difficoltoso farlo con le braccia chietta bisogna farlo con le braccia qua ok ok l'altro lato braccia sinistra, gamba destra spingo corte, spingo corte ho un pellico ben resucchiato all'interno ok lascio un attimo la sedia da parte e vado bene, spallanca non è tanto ginocchio e gomito ma è spallanca grazie a te Grazie a tutti. 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 Per oggi abbiamo concluso il nostro allenamento. Chiaramente è stato pensato per farlo quando non avete tempo, ok? Per questo è così veloce. Se invece avete più tempo potete rimettere da capo il video e farlo una seconda volta, ok? Detto ciò, io spero che siano state utili le nostre dirette che abbiamo fatto, che vi state divertite e vi state allenate. E spero di vedervi presto al club, ok? Un bacione, buona settimana.